non va? va va appena detto buon pomeriggio a tutti Marco dice non va e partiamo live buon pomeriggio a tutti e mi è arrivato la notifica se in diretta proprio mentre dicevo non va sembravo quasi piccinini va bene va bene va bene dai buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di oggi oggi speciale marketing sì ma vogliamo dire che finalmente siamo in maniche corte? ah è vero è vero è vero finalmente è arrivato il caldo era ora era ora a fine maggio all'ultimo giorno di maggio e finalmente è arrivato il caldo siamo in maniche corte ed è bellissimo tra l'altro ci aspetta un piccolo ponte che io e Marco faremo col pc aperto a lavorare giorno e notte l'unico ponte è quello che faranno vicino casa tua Peppe esatto esatto un po' più un po' più lontano un po' più poco no dai scherzi a parte oggi diretta sul google marketing live vogliamo fare siccome non l'ha fatto nessuno esatto siccome non ne ha parlato nessuno vi abbiamo parlato un elenco di non so quanti link dove si trita e ritrita la la roba io nel mio post l'ho riassunta così hanno preso chat gpt l'hanno messo dentro google ads finito il google marketing live quindi fine della diretta ok ci vediamo tra quindici giorni no scherzi a parte da impressione a caldo dammi le tue impressioni sul google marketing live allora io l'idea l'idea che quello che abbiamo visto chiaramente dobbiamo ancora vederli in azione e quando quando ci presentano le cose google ormai è diventata quasi una un maestro nel farlo sembra sembra quasi è presente la scheda prodotto di apple dove ti mostra l'iphone che fa una marea di cose però alla fine un telefono fondamentalmente o meglio dovrebbe essere utilizzato come come telefono però detto questo l'idea l'idea che ho io è che l'intelligenza artificiale all'interno della piattaforma di google ads c'è già da un bel po chiaramente non era ai livelli e non poteva essere livelli che ci hanno mostrato nel nel google marketing live ma quello che abbiamo potuto vedere grazie anche alle slide di google è l'evoluzione che google ha fatto dal 2016 adesso non ricordo la slide di preciso era 2016 2018 ma credo 2016 l'evoluzione di come il machine learning adesso lo vogliamo chiamare intelligenza artificiale chiamiamo l'intelligenza artificiale è entrata all'interno della piattaforma e ha cambiato un po di cose di cui noi ampiamente ci siamo accorti per esempio dal dallo smart bidding le parole chiave prima generica modificata adesso la generica sono arrivate altre funzioni all'interno della piattaforma ma banalmente anche le idee che google ci forniva all'interno del della creazione degli annunci adattabili si sono evoluti si sono evoluti speriamo in meglio sicuramente e in intelligenza artificiale conversazionale quindi avremo la possibilità secondo me una una delle modifiche principali anche perché se non mi sbaglio è stata una delle prime cose che google ha mostrato nel marketing live è stata proprio quella della schermata dove andiamo a fare l'annuncio adattabile o l'annuncio di una performance max e da lì c'è quella bella chat dove noi possiamo tranquillamente chiedere quello che vogliamo e google ci tira fuori titoli descrizioni abbiamo visto anche delle immagini insomma dopo ne parleremo anche nel dettaglio anche per altre cose quindi riassumendo secondo me è quello che ci ha mostrato google è l'evoluzione dell'intelligenza artificiale all'interno di google ads sì non posso che essere concorde con te al nel 2016 fu la parola smart tutto diventò smart poi ci aggiunsero la parola machine learning ora hanno cambiato gli hanno dato una tinteggiata dell'intelligenza artificiale chiaramente si è evoluta tantissimo sarebbe meglio che anche a livello di traduzione soprattutto quando tu leggi nei contigli certe cose aumenta il budget del 300 per cento e otterrai un ritorno sull'investimento pari a un euro cosa devo fare io che triplico il budget e ottengo un euro in più sei sicuro che questa è la traduzione c'è qualcosa che non mi torna nella traduzione no ce ne sono di bellissima però a parte scherzi a parte sicuramente ha fatto delle evoluzioni pazzesche quello che abbiamo visto nel google marketing live cioè il poter dire a una campagna fai questo togli questo perfeziona che secondo me un po mi ricorda quello che attualmente facciamo cioè utilizzando non spesissimo però mi capita soprattutto quando sono accorto di te di utilizzare chat gpt adesso me lo ritrovo già dentro google ads come dicevi tu in realtà non è google che sta copiando chat gpt ma è la naturale evoluzione fondamentalmente della dell'intelligenza artificiale che è nata con google poi attualmente ci sono anche tantissime altre piattaforme che la sfruttano però sicuramente google è da considerare tra i primi e comunque tra quello che ci investe di più in termini di intelligenza artificiale mentre un'altra cosa che a livello di contesto secondo me è passata forse un po in secondo piano però secondo me è molto importante rimarcare e l'esplosione dei video un'altra cosa su cui loro hanno tanto secondo me parlato e spinto l'acceleratore e l'esplosione dei video da un lato vediamo l'esplosione sicuramente dei shorts che oggi se non sbaglio il dato era 50 miliardi al giorno di visualizzazione non vorrei dire una stupidaggine 10 o 50 miliardi comunque al giorno di visualizzazioni cioè un numero enorme quindi un invento di pazzesca che sicuramente google non aspetta altro di mettere sul mercato vedremo infatti che poi ci sono due secondo me campagne che vanno proprio a sfruttare questi inventori ma un'altra cosa su cui mi è piaciuto tanto che loro sostenevano che usa il prime time è diventato youtube cioè youtube nel nelle tv con esse rappresenta il prime time quindi e tra l'altro un prime time personalizzato quindi se noi vogliamo accedere alla tv youtube diventa la prima scelta chiaramente parliamo degli stati uniti che sono 10 15 anni avanti rispetto al nostro mercato però sicuramente è da tenere in considerazione soprattutto quando parliamo di grossi marchi grosse aziende che fanno pianificazioni media grosse youtube probabilmente potrebbe pesare non dico quanto la tv però cominciare a a a me a diciamo a bilanciare le cose prima generalmente si faceva almeno io quando lavoravo in azienda si faceva la pianificazione in media e poi una x percentuale la si metteva anche su youtube proprio per diciamo aumentare oggi addirittura c'è il rischio che youtube si rubi parte della del budget dedicato magari alla televisione eccetera eccetera questo secondo me è un altro guarda io ovviamente sono d'accordo con quello che stavi dicendo youtube è un asset importante che va che va sfruttato aggiungo a quello che hai detto tu stamattina ho ricevuto la mail di google da think with google dove c'era il video di oddio adesso non ricordo erano due dirigenti di una azienda di una grande cinque minuti ehm spiegavano la loro strategia eh fatta nel duemilaventidue eh per quanto riguarda youtube perché il duemilaventidue sappiamo è un anno abbastanza particolare perché c'è stata la transizione da eh dalla pandemia del duemilaventuno al quasi ritorno alla normalità quindi eh hanno modificato il loro investimento e addirittura per uno specifico prodotto avevano spostato tutto il budget tv su youtube e quello che hanno ehm ricavato dai dati poi che google gli ha fornito ma loro hanno fatto anche delle dei sondaggi delle ricerche hanno contattato nielsen poi per capire effettivamente se quello che stavano facendo su youtube eh stava portando valore ed effettivamente loro hanno riscontrato dei dati che erano per loro ottimi ma veramente ottimi perché dicevano noi sulla televisione non abbiamo mai riscontrato questi dati quindi a vederlo eh dal dal vivo come si suol dire su carta era una roba eccezionale quindi loro hanno detto cavolo duemilaventidue adesso abbiamo sperimentato questa roba qui ci ha portato dei dati ottimi perché non continuare anzi rafforzare questa sperimentazione con eh dell'altro e quindi eh questo ti fa capire che eh youtube incomincerà a mangiare mercato anche alle alle televisioni soprattutto per alcuni prodotti alcuni servizi eh rivolti a generazioni che ormai la televisione magari la guardano poco o soprattutto come dicevi tu prima non guardano i classici canali quelli che noi boomer siamo abituati a a vedere ecco eh ma magari usano una una smart tv perché perché hanno le app dove ehm dove possono vedere delle cose io posso portare la mia esperienza personale eh io a casa ho skycube mio figlio ehm non sa fare nulla però sa usare il telecomando per andare sulle app e trovare disney ehm prime video e tutte le altre app youtube e tutte le altre app dove vede principalmente cartoni quindi per me eh quel ragionamento che facevi tu prima youtube eh è totalmente da da abbracciare ovviamente bisogna avere una strategia dietro del budget e i classici discorsi che facciamo di solito sì 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 sicuramente ma ripeto il mio discorso era più relativo al discorso i grandi brand ma io ripeto in generale mi è capitato di vedere anche delle pubblicità locali su youtube cioè mi sto guardando e vedo delle pubblicità locali e sicuramente vai a fare brand nella tua zona perché vai entry nei nei salotti come dicevo appunto google marketing live nelle famiglie e quindi puoi anche ritagliartelo se ci pensi è più facile perché prima eri costretto diciamo a fare pubblicità sulla rete locale sulla tv locale per per avere il target tuo invece oggi con youtube hai la possibilità non solo di aprirti oltre al target locale anche fuori la la tua zona ma soprattutto di andare a prendere quelle generazioni che ormai vivono lì tra l'altro noi io su un cliente locale è una cosa che faccio abbastanza spesso cioè in determinati momenti preferiamo proprio lavorare sulla copertura di una determinata zona e non mi interessa in quel momento la conversione mi interessa la copertura la rich di quel momento perché mi interessa far passare il mio messaggio e mettere in testa chiaramente selezionando il targeting geografico giusto sì sì ma torniamo torniamo abbiamo divagato un po' troppo dimmi che parliamo di che parliamo 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 del parliamo del degli asset parliamo degli asset che vengono creati automaticamente ovviamente ovviamente c'è la possibilità di almeno in una delle immagini che ho visto eh c'era l'opportunità di mettere in off eh l'opzione quindi di creare in maniera automatica cioè in maniera manuale eh gli asset però c'è eh questa questa opzione collegato a questa robetta qui ti do anche un'altra informazione più di qualche advertiser eh americano ha scritto su LinkedIn io poi ho fatto qualche ricerca ed effettivamente ne ho trovato un bel po' di di advertiser eh che hanno iniziato a dire che le Pmax non sarà più possibile farle feed only eh questo sarà proprio perché proprio perché Google vuole spingere a farti usare eh o in maniera manuale o in maniera automatica tutti gli asset all'interno della campagna fino ad oggi noi avevamo soltanto gli strategisti di Google che ci contattavano telefoninamente per dire ehi ma perché non ammetti gli asset eh alle alle tue Pmax? No perché voglio fare solo shopping ma ehm ci spingevano a fare questa roba qui ora se Google fa questa mossa probabilmente eh credo che arriverà a breve anche anche in Italia tu che ne pensi? Allora premetto che saluto tornare al shopping standard anche tu io credo che questa mossa dipenda soprattutto dal diciamo dalla distribuzione dalla diffusione di shopping standard e shopping solo feed che c'è adesso cioè non posso tagliare una fetta cioè se adesso c'è una dico una stupidaggia il 30% di advertiser a livello mondiale che usa le Pmax solo feed non vado a tagliare questo comunque il rischio di forzare una una transizione che chiaramente poi l'advertiser si riadatta e quindi è vero una parte finirà alla shopping standard quindi eh però ti dico una ti dico una ti dico una cosa rispetto a quello che hai detto tu secondo te per Google è meglio che faccia morire quel 30% morire tra virgolette quel 30% di campagne feed only a costo di spingere gli interzionisti a usare tutti i canali all'interno di una Pmax oppure dice no vabbè mi lascio i canali e poi faccio usare solo solo shopping e dipende da uno da quanto è satura shopping che purtroppo è un dato che non abbiamo immagino sia molto saturo ma non non lo sappiamo quindi cioè secondo me il problema di Google è un problema di inventory questo è il discorso e purtroppo il dato di inventory lo sa solo Google quindi quanto mi conviene togliere chi usa solo shopping libero libero spazio eh cioè eh perché di là chiaramente su YouTube e sulla e sul sulle altre reti avendo gli asset ha tutto lo spazio libero che vuole quindi spostando quella se quel 30% assurdo chi fa le asset solo feed scompare mettiamone non fa più campagne o anche è un solo 5% lo sposto di là chi faceva le shopping comunque si prende questa parte lì una piccola parte e di là lui può vendere inventory quanto vuole vende e allora e allora bogottiamo Google e torniamo tutti a fare le shopping standard standard non credo ma secondo me comunque non è una soluzione che avremo nel breve perché secondo me ci sono ancora tanti advertiser come ti dicevo che sfruttano ancora le Pmax solo feed tra cui io sono il primo ma la differenza sostanziale è questa attenzione cioè se avete un reparto grafico e delle ottime eh cioè possibilità di creare dei video e dei grafici e quindi cioè secondo me le Pmax complete sono migliori delle Pmax solo feed però devi avere la possibilità di creare i video di fare una continua ottimizzazione delle immagini allora è chiaro che andiamo a coprire un un universo molto più grosso però io gran parte delle aziende anche grosse con cui lavoro spesso non ha la possibilità o comunque ti gira le immagini dei prodotti vero è che con il product studio che avremo a disposizione dentro il nuovo merchant center magari questo giochino cambia perché avremo io però ti ti dico una cosa ehm sì è vero è vero quello che 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 dicevi non sono convinto al cento per cento di una cosa però eh che le Pmax complete siano meglio delle Pmax feed only perché secondo me c'è un una questione a monte che va eh che va analizzato ovviamente business per business il tipo di business e il tipo di prodotto che stiamo che stiamo vendendo perché se parliamo di un certo tipo di eh di prodotto quindi dove ci sono tantissime ricerche chiaramente voglio aggredire il canale shopping se faccio una campagna Pmax completa non lo sto aggredendo quindi devo avere una strategia differente che si posso attivare una Pmax completa ma devo avere anche delle shopping standard perché devo massimizzare la mia visibilità sul sul canale shopping perché altrimenti non lo vado a a saturare come dicevi tu prima parlando da azienda e quindi a quel punto mi vado a perdere delle opportunità su un canale che probabilmente mi portano più conversioni più entrate rispetto a quelle che potrebbero fare le Pmax complete eh non so se no no il concetto è chiarissimo cioè se ho cento da investire e investendo in shopping perché il prodotto è giusto la gente se lo compra eccetera eccetera perché ci sono quelle ricerche butto tutto là il mio budget e sono sicuro che prendo però vedendola nel medio lungo periodo costruendo rapporto va visto il business se un acquisto ripetitivo cioè le domande qua sono in in linea generale secondo me ci sono anche delle possibilità per andare oltre shopping però va visto il caso specifico perché se no non parlare perdone perché non abbiamo considerato il buon Giuseppe Paino che ci ha scritto no no è che stavamo finendo finendo il discorso per poi partire da quello che ehm diceva Giuseppe eh diceva che tutte le piattaforme di advertising eh con tutte queste semplificazioni tra virgolette andrà sempre più verso dammi gli asset creativi feed e distribuisco io o meglio trovo io il targeting migliore e dove sono queste persone eh sì e il Google Marketing Live ne è una una prova perché eh i tre concetti che Google eh in una delle prime slide che ha che ha mostrato è stato esatto quindi conferma quello che sto dicendo è intelligenza artificiale creatività privacy mh so se ve la ricordate quella 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 slide quindi anche quando Google dice che al secondo posto c'è la creatività ti fa capire che noi ci dobbiamo sempre più concentrare nel fare i video fare le immagini poi vediamo nel fare le immagini come però diciamo è quello il nostro il nostro lavoro incomincia a essere quello più strategico più di eh lavoro creativo piuttosto che lavoro manuale all'interno della piattaforma non a caso Peppe eh aggiungo questa cosa ehm è un po' di tempo che nelle mie formazioni difficilmente entro in in piattaforma a far vedere come si fanno le cose mi piace più spiegare i concetti perché la piattaforma cambia si evolve eh Google ormai ha è un po' di tempo che c'ha questa abitudine di togliere i pulsanti nasconderli spostarli cambiare menu quindi eh nella formazione io preferisco non entrare in piattaforma non far vedere le cose ma piuttosto dire la le aste funzionano in questo modo le corrispondenze funzionano in questo modo gli annunci adattabili funzionano in questo modo poi il come si fanno si impara è un attimo si entra in piattaforma e si vede però i i concetti che ci sono dietro secondo me sono molto 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 importanti ma allora io concordo anche io che tutte le piattaforme stanno andando verso la semplificazione per però ancora oggi su dipende dal business però ci sono ancora tutta una serie di business alcuni in particolare dove la conversione sostanzialmente è la search cerco quella cosa e voglio quella cosa e quella la conversione per quanto poi ci puoi costruire il mondo sopra quindi in questo momento oggi nel 31 maggio 2005 ancora oggi ha senso tra virgolette andare a coprire budget permettendo prima di tutto quella ricerca che sia search che sia shopping però andare lì nella ricerca consapevole cioè faccio un esempio se io cerco un corso di formazione perché mi devo formare sono obbligato a fare quel corso per la mia professione e ci puoi girare con tutti i video con tutta la ma nel momento in cui l'utente cerca corso di formazione x y è quella quelli che converte e lo stesso discorso prendo un volo aereo costruiamogli tutto il brand che vogliamo ma se io cerco volo catania bologna quelle la query che converte quindi si si va verso una semplificazione però non ci dimentichiamo che per anni abbiamo detto sempre ricerca consapevole cerca latente ancora oggi questa soprattutto in google c'è una bella differenza tra le due cose poi giuseppe ha aggiunto anche i clienti non hanno gli asset creativi ora peppe e giuseppe io andrei oltre perché potremmo stare qui ore ed ore a raccontare di storie di clienti che inviano cose inutilizzabili diciamo inutilizzabili quindi sovrassediamo e passiamo però a product studio allora innanzitutto facciamo un piccolissimo passo indietro google ha ufficializzato insomma ha lanciato il nuovo merchant center next ne avevamo già parlato in in altre in altre occasioni io ho avuto modo anche di testarlo se non mi sbaglio anche tu peppe hai avuto modo di testarlo e soprattutto la mia reazione è stata identica a quella di testarlo proprio di testarlo fisicamente e sì quello io l'ho provato su tre account e effettivamente c'era una marea di bug di pulsanti che non c'erano nemmeno addirittura mi è capitato su un cliente dove volevo configurare le spese di spedizione e non c'era il tasto per per farle perché avevo bisogno di fare le spese di spedizione per peso quindi figurati però spero che google trovate il tasto per il fido supplementare o le regole del merchan le viste non ci sono arrivato a vedere quella roba lì peppe ho switchato prima la versione precedente sarà in roll out nel prossimo periodo google google ha scritto questa cosa io la vorrei chiarire perché è importante perché google dice entro il 2024 riusciremo a dare roll out a tutti merchant center next e dice anche nel nel marketing live che inizieranno dagli account più piccoli merchant center non è come google ads come come strumento si adatta molto a quello che è il business e a come lo utilizziamo quindi non tutti i merchant center sono uguali alcuni hanno delle dei tool dei report in più altri non li vedono proprio perché è differente il business e l'utilizzo che ne facciamo ecco perché google dice posso partire da gli account più piccoli perché magari non c'è molto e faccio subito a trasportare le cose da una parte all'altra mentre per gli account un pochettino più grandi quelli un pochettino più organizzati e strutturati avrò un pochettino più di difficoltà nel fare far fare io e poi far fare il passaggio a merchant center next ecco perché ci dà come deadline nel 2024 detto questo all'interno google dice che è un passaggio dove va a semplificare il lavoro e su questa cosa sono totalmente d'accordo nel senso che peppe tu lo sai io faccio formazione su merchant center spesso mi capita di parlare con agenzie freelance clienti di merchant center e quello che posso constatare è che le persone arrivano caricano il feed che poi verranno verrà utilizzato in google ads e se lo dimenticano perché perché non vogliono magari approfondire la conoscenza di merchant center perché alcune cose sono un po' nascoste un po' sono tecniche quindi questa cosa qui google se ne è accorta probabilmente avrà letto anche i miei feedback mensili che invio e quindi ha detto attenzione le cose che ci sono in merchant center non spariscono rimangono ha usato proprio non andranno da nessuna parte rimangono all'interno di merchant center next saranno però semplificate come user experience io lo spero perché comunque oddio io adesso ci ho fatto un po' l'abitudine però diciamo che comunque serve semplificare le cose e ci saranno in più nuove nuovi dettagli nuove informazioni nuovi report quindi io sono anni che auspico che merchant center e google ads si parlino e non solo in una direzione cioè di traffico ma bidirezionale google ads può inviare dati di performance dei prodotti a merchant center next in modo che lì dentro abbiamo un po' più di dati su cui ragionare spero che questa cosa venga scaricare le due tabelle e fare cerca verticale su un pubblico esatto esatto anche perché poi merchant center non parla nemmeno con drive e quindi ogni volta dobbiamo fare un passaggio in più tramite vabbè ma questa è un'altra storia all'interno di merchant center ci sarà poi un tool almeno google l'ha presentato come la la funzionalità nuova migliore di merchant center next che è product studio a cosa serve product studio serve a fare le immagini per la p max secondo me perché da quello che ci ho capito io però a meno che non cambiano cioè se io prendo quell'immagine che facevano valedero del gattino e la metto come prima immagine del prodotto il prodotto mi si boccia sì allora è un po' un mix nel senso che all'interno di product studio google ci ha diciamo dichiarato ufficialmente tre funzioni la prima è quella che serve alla parte shopping cioè rimuovo lo sfondo delle foto che se vogliamo è l'evoluzione del tool che tanto piace a peppe del miglioramento automatico delle immagini in alcuni account mi ha fatto scomparire l'immagine che è stata bellissima esatto quindi quella parte lì è quella che va a lavorare sulla parte shopping quindi ci dà la possibilità di caricare un'immagine e poi di utilizzarla attraverso l'attributo link image le altre o l'altra funzionalità quindi le altre immagini che riusciremo a creare tramite l'intelligenza artificiale io le vedo come le immagini utilizzabili attraverso l'attributo image lifestyle che google ha da un anno e mezzo circa un anno un anno e mezzo aggiunto ai ai feed e per la parte di performance max quindi io mi aspetto per esempio google non ci ha detto questa cosa qui però mi aspetto che tutto quello che poi vado a creare all'interno di product studio me lo ritrovi all'interno di raccolta asset in google ads quando parlai prima del bidirezionale che continuano a parlarsi due sistemi non è che poi mi fai lavorare su product studio mi fai scaricare l'immagine perché poi la devo ricaricare io su google ads cioè io c'ho anche una visita mi fai l'immagine me la fai aggiungere al feed e non la vedo più e mi devo fare lo screenshot no 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 su quello no no su quello no chiaramente tutto quello che abbiamo visto sarà come godò nel senso che prima che lo vedremo qui chissà quanto passerà lo dobbiamo lo dobbiamo testare dovremmo comunque vedere e testare però secondo me con questo visto che siamo a metà quasi duemila e ventitré lui parlava di fine duemila e ventiquattro secondo me già primi duemila e ventiquattro già avremo magari su qualche account di vederlo qualcuno anche fine fine anno si ritroverà qualcosa da da provare da testare poi sappiamo che google piace dare le novità proprio nel nel miglior momento possibile che tra ottobre e novembre sì sì no ma secondo me quest'anno si concentrano per il 25 il black friday cambio obbligatorio di google merchant center ti trovi nel mercato center next proprio il giorno del black friday così esatto perfetto perfetto e l'altra funzionalità di product studio era quella di creare le immagini rimuovere il desktop e l'altra tra ricordi e c'era praticamente la possibilità di tra virgolette aggiustare l'immagine quindi rendersi migliorare la qualità migliorare la qualità delle immagini non solo la luce la facciamo vedere che magari perché uno tra virgolette addirittura è un motivo di approvazione delle immagini che tu caricavi l'immagine fatta veramente o con uno screenshot dimensione francobolli io ho visto nei mercati ma come cavolo hai caricato l'immagine e c'è una cosa veramente 200 per 200 e quindi quando la vedevi su shopping a grandezza naturale vedere i quadratoni praticamente e quindi ti dà la possibilità di renderla più unida e questo chiaramente dovrei tra l'altro il tutto con immagino veramente un click il famoso one click tool si creiamoci non quanti tu le rendo l'immagine più figa anche questa cosa secondo me è molto molto interessante chiaramente ovviamente va approvata e va testata noi ritendo e scherzando parlando così un po di google ma che abbiamo abbiamo superato la mezz'ora ma volendo riparlare quindi abbiamo parlato sicuramente dell'approccio diciamo conversazionale quindi del fatto che le campagne diciamo a google come farle tramite un prompt una chat e lui ce le fa come ci pare abbiamo detto che ha un'altra cosa ci siamo dimenticati di dire che avremo di una nuova una nuova serie di report nelle p max che ci aiuteranno a capire meglio come performance ora se lo stesso architetto le stesse ingegnere che ha fatto attuali della p max io rispondo no grazie restiamo così mi prendo grazie già fatto della della buon agency savi che non mi ricordo il tipo che l'ha fatto e sono più felice di quel report perché vedere i quattro asset dove c'ho solo un dato percentuale che quella percentuale pubblica 1 e 2 1 e 3 1 e 4 1 e 5 su a volte perché poi mi capita nel logo nell'asset logo c'è il logo questo gli piace di più questo gli piace di meno potrebbe essere uno studio per vedere quanto conoscono quel marchio la varia audience però no non lo so cioè se è questo il livello ora loro hanno fatto invece vedere dei dettagli per esempio sui termini di ricerca che sembrano essere un pochettino migliori rispetto a quelli che abbiamo adesso però anche qui stiamo a vedere che cose effettivamente avremo a disposizione perché sicuramente avere a disposizione più dati soprattutto per noi vecchi vecchi adverta casi che abituato ad avere una grossa quantità di dati e a lavorare appunto su analizzare i dati sarebbe molto utile nelle campagne p max soprattutto avere un'idea delle reti dove vanno oggi e un'altra cosa che ci piacerebbe tantissimo la figura se ce la dà era il percorso di conversione anche questo sarebbe molto interessante avere una sorta di path per le varie reti però dubito fortemente che avremo questa tipologia di dati esatto sì perché se ce l'hai poi smetti di usare performance max e torna alle shopping standard detto questo allora abbiamo tre news velocissime da condividere però prima di condividere le news dobbiamo finire l'elenco delle cose che sono dal marketing live e quindi un'altra cosa importante che avremo due nuove campagne video ci siamo dimenticati delle nuove nuove campagna si vabbè l'abbiamo l'abbiamo introdotto abbiamo in qualche modo detto però youtube fondamentalmente avremo una sorta di campagna che va a prendere praticamente gli asset della discovery ma va soprattutto lato shorts ma va a prendere se non sbaglio anche gmail e il discover e va quindi su video e poi una campagna sostanzialmente oggi gli shorts se non sbaglio è possibile utilizzarle solo con campagne generale conversione quindi mancava la campagna che utilizza anche gli shorts quindi non solo gli shorts per andare fondamentalmente a cpm quindi andare a copertura e questa sarà una della un'altra campagna su cui chiaramente google spera di sfruttare la nuova inventory che ha a disposizione e adesso che siamo a ben 37 minuti quindi ci scudiamo siamo andati un po lunghi stavolta parliamo delle tre news che velocemente la prima la prima riguarda il programma scorecard che purtroppo in italia non c'è non c'è ancora io lo attendo con ansia questo questo programma tempo fa vi dicevo che google ha testato sta testando in america il il badge negozio verificato quindi una volta attivato lo scorecard una volta soddisfatti tutti i requisiti del programma all'interno degli annunci shopping veniva inserita questa dicitura con la classica spunta blu ok per capirci con la scritta lo shopping negozio verificato google sta testando in america un nuovo badge che si chiama top quality store è più o meno la stessa cosa poi c'è da capire se questo top quality score rimarrà in inglese per tutti gli account di qualsiasi paese di qualsiasi lingua comunque ci fa capire che google sta testando queste cose ci fa capire che è una cosa abbastanza importante quindi all'interno degli annunci shopping non sarà più solo importante avere delle recensioni prodotto ottime o comunque almeno buone ma soddisfare i requisiti di google anche come inserzionista quindi avere quel badge quella spunta blu rassicura il cliente che trova l'annuncio su shopping quindi può cliccare può acquistare tranquillamente quindi immagino che poi lato google ads si traduca in un ctr più alto più vendite più conversioni e quindi fateci avere questo programma scorecard anche in italia tra l'altro quel top quella etichetta lì mi ha subito ricordato qualcosa che non so magari google diciamo che ha preso spunto non so se vi ricordate ebay top seller non so se diciamo che mi sembra mi ricorda molto mi ricorda molto quella tra le altre news interessanti che abbiamo trovato ho trovato praticamente due post di kirk williams in realtà che riguardano praticamente uno è l'importazione delle conversioni di g4 allora si era parlato della famosa importazione la riassumo veloce anche se ripeto della importazione con g4 che avrebbe passato il valore dei vari canali a google ads mentre prima vi ricordate con g3 veniva passato solo il last click adesso vengono passate le varie opzioni però il problema rimane rimane a livello di discrepanza tra google ads e g4 la dico breve immaginate clicco su un annuncio google ads poi mi arriva una mail e converto google ads chiaramente non avendo il canale mail e avendo il tracciamento con google ads si prende il valore 100 di quella conversione g4 avendo tracciato il canale mail assegna 50 e 50 sto semplificando quindi da 50 per cento a google ads di conversione a questo punto qual è la migliore soluzione per l'algoritmo dirgli che quella conversione è venuta tutta grazie a google ads o dirgli che quella conversione è avvenuta al 50 per cento grazie a google ads questa chiaramente è una domanda a cui non abbiamo risposta però dal mio punto di vista io preferisco ancora avere il tracciamento di google ads per un banale motivo perché google ads comunque si porta dietro tutto quello che il pre click cioè abbiamo le cross conversion le e non le scusami le true view conversion e le engage view conversion cioè quelle da video quelle da impression e quelle da cross che ci perdiamo se passiamo al tracciamento di g4 quindi per questo io continuo a sostenere sono ancora del partito che le conversioni in google ads vanno sempre tracciato con la tag di google ads e immagino marco sarei d'accordo al cento per cento su questa cosa ultima news che rimane è sempre quella di del buon kirk william che ci dà cinque praticamente diciamo tips aiuti per quanto riguarda i piccoli budget e devo dire che mi ritrovo molto su questa cosa proprio perché quando si parla di piccoli budget molto spesso il tracciamento delle molto spesso si parla di campagne local il tracciamento spesso non è il massimo anche perché molto spesso è difficile tracciare quello che avviene il locale perché molto spesso avviene offline il tracciamento e quindi lui dice di stare più che attenti alle conversioni per esempio stare attenti al targeting lavorare magari su degli orari in modo da poter restringere meglio il la copertura sugli orari specifici se io mi devo dire che mi ritrovo molto su questo articolo comunque per chi lavora con piccoli budget vi invitiamo a leggerlo perché può essere davvero prezioso che ci ha scritto valerio sciotti che salutiamo le shopping star da non sono tanto male e valerio io se porto gli occhiali e perché ho fatto non so quante campagne con la tecnica spag quindi con me sfondi una porta aperta proprio sullo shopping standard io le uso le uso tuttora anzi faccio no le spag le spag non tanto ma le shopping standard alla grande e ad oggi molto spesso in alcuni account che mi permettono faccio il doppio canale chiamiamolo così ovvero p max e shopping standard sugli stessi prodotti col diciamo col merchant alternativo col css alternativo per chi non conoscesse le spag non è nient'altro che la tecnica equivalente della scag fatta su search quindi single keyword ad group per quanto riguarda le shopping standard si usava il single product per ad group quindi avevi all'interno di una campagna shopping standard più gruppi di annunci e ogni gruppo di annunci corrispondeva a un solo prodotto da da vendere quindi nel periodo c'era una campagna bellissima e nel periodo c'era anche un fiorire di script che ti permetteva che te li faceva in automatico perché farli a manina a volte era ti porta poi a portare gli occhiali anche a santificare il calendario per faretti mesi quindi diciamo che siamo arrivati alla conclusione di questa bellissima diretta io nel frattempo vi approfitto per ricordarvi che c'è sempre il nostro canale youtube quindi se volete iscrivetevi al nostro canale news e tips su google ads ne approfitto per darvi l'appuntamento vi do qualche diciamo una trentina di secondi per fare eventuali domande chiaramente quattordici giugno ci vediamo il quattordici giugno alle quindici e trenta sempre su questi schermi e niente mi non mi sembra ci siano domande a antonia ciao 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 e niente che dire quindi rinnoviamo l'appuntamento ci mi sembra che sul google marketing live abbiamo detto tutto anzi se qualcuno ha voglia di dire la vostra ben ditelo nei commenti noi provvederemo a rispondervi con a tempo debito e quindi buon pomeriggio e buon lavoro a tutti e ci vediamo quindi il quattordici giugno ciao buon pomeriggio buone ads buon pomeriggio